Tocca di tenere la cagnolina perché ha paura dei botti, quindi buon anno, faccio questa diretta sorpresa, forse si collegheranno anche degli amici, non lo so. Sono le prime, l'alba di questo 2022 e sono anche dimenticato di accendere questo, non sono comodo perché la cagnolina vuole stare qui perché ha preso paura dei botti, sì piccola stai tranquillo, non è successo niente. Ciao, allora, buon anno, auguri, mamma mia quanti siete Manfredi, buon inizio anno Paolo Facchinello, picchio tenace, ciao, ciao a tutti. Allora, inizia questo anno nuovo, adesso arriveranno tutti i messaggi di tutti, anche se i telefoni sono intasati, auguri, auguri, buon anno, auguri, ne faccio sto, oh la lì, la pizzico, la Jessica. Ciao, grazie, grazie. Io ho acceso una diretta adesso, ho la Olli in braccio che la Olli chiaramente ha preso paura dai botti e quindi sta qui che trema, tremava, adesso si è calmata un attimo. Eh sì, eh sì, 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 beh non molti perché sai vi stiamo in mezzo alla campagna però, eh però arrivano i botti anche qui, quindi arrivano e lei li sente lontanissimi, lei si è poggiata qui, tutta tranquilla, lei spalmata su di me e quindi, ok, senti ma ci vediamo domani, dopodomani? Pronto? Pronto? Ho detto ci vediamo, no, c'è la linea che è pessima, ci vediamo domani, dopodomani? Eh, ok, va bene, 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 mi dai la luna? No, vabbè sì, lasci stare, mi dai la luna? Sì, ciao. Buon anno Luna, anche a te, anche a te, sento che sì, sì, siamo stati svegli fino alle mezzanotte, poi adesso ho acceso la diretta e ce l'ho all'imbraccio che ha paura dei botti e quindi ce l'ho qui in braccio, eh sì, eh vabbè ma qui qualcosa si è sentito, quindi ok, ok, ciao, grazie, ciao, 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 va bene, ciao, ciao Luna, ciao, ciao. Allora, oh ragazzi, sarà un anno caricatartico, sarà un anno molto molto tosto, inizierà in in una maniera molto tosta questo anno, inizierà in una maniera dura, come finito il 2021, non che si volta pagina, eccetera. Buon anno, allora, buon anno da Barletta, sono Mario da Barletta, mezzo bolognese, quello che ti fate al culo il giorno del tuo compleanno è tramite Nino, auguri a tutti voi, auguri a Elisabetta, poi speriamo un anno migliore, non bisogna sperare un anno migliore, bisogna crearlo l'anno migliore. Sarà un anno molto duro, quindi è inutile che ci diciamo frasi, sarà un anno dove la nostra determinazione sarà importantissima, tanti auguri da una venta di piave, dall'Australia, da voi è già da un po' che avete festeggiato, che bello, auguri, il 2022 sarà un altro anno orribile, no, alla fine siamo sopravvissuti al 2021 ed è tantissimo, quindi significa che che andremo avanti nonostante tutto. Allora, sentiamo un po', ci sono dei messaggi, ci sono dei messaggi, fammi sentire Linda. Un anno super luminoso, ragazzi, tanta felicità, ma tanta, 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 guadagnata con i ullo unghie, con i denti, con le lacrime, con i sorrisi, ma tantissima felicità. Questa è Linda Corrias, l'avvocato, mi è arrivato un messaggio molto bello che voglio far ascoltare di Adin. Adin è quella ragazza del Perù, è in quarantena Milano in questo momento, dico quarantena perché? Dice dopo sei traslochi, sette processi, biblioteca ibernata, quattro viaggi rimandati, sei progetti fermati, una colica renale, un covid, un invito ad Harvard per inaugurare un corso, spero di arrivarci e io gli ho detto come stavo, che abbiamo avuto dei problemi e lei mi ha detto questa frase molto bella. è perché te sei dei nostri e anche questo abbiamo vissuto così pericolosamente, dando tutte le nostre energie perché le cose migliorassero, investendo tutte le nostre forze, tu le tue nel tuo, io le mie, di questi, di questo gruppo di noi irriducibili che crediamo nel cambiare le cose e questo se noti siamo tutti quelli che siamo così, siamo tutti come in un piccolo nido adesso che ci stiamo difendendo, riposando e ricostruendo le energie, aggiustando le ali, sistemando le cose, coraggio, coraggio, manca poco e poi il cambiamento che viene ci aiuterà a migliorare le cose. Un bacio grandissimo, hang in there, hold on, hold on, ti penso, ti ho sognato quando avevi avuto l'incidente, guarda che te l'avevo scritto, un bacio, un bacio, ciao. Bellissime le immagini che siamo come in un nido ad aggiustare le ali, noi che dobbiamo andare avanti, che dobbiamo fare cose, tutti noi abbiamo cose importanti da fare, non è che chi ha cose più importanti da fare o no, tutti noi siamo chiamati a fare cose importanti ed è per questo è importante crearlo noi, il nostro anno, faremo di tutto per difendere i diritti umani, tutti noi. Auguri Redman, nessuna nuova era? No, c'è una nuova era, certo che c'è una nuova era, auguri da Darwin in Australia, è sempre una nuova era, questa è un'era molto molto particolare. Buon anno Redman, il più brutto capodanno della mia vita, 62 anni, beh devo dire che credo che per tutti questi siano state in Natale il capodanno più brutto, ci hanno tolto il festeggiamento, stare insieme, l'abbracciarci, la libertà di andare a trovare gli amici, di prendere un treno, di andare in un ristorante, ci hanno tolto tutto questo, perché non credere nel momento stesso in cui anche se tu hai, diciamo, le credenziali, chiamiamole così, no? E il fatto stesso che tu per fare una cosa normale, abbi bisogno di credenziali, è già una mancanza di libertà, cioè se anche tu sei in regola, ok? Chiama la regola, se la vogliamo chiamare regola, nel momento stesso in cui tu hai bisogno di una passa o di un qualcosa, vuol dire che non sei libero, perché hai già bisogno di qualcosa per fare una roba che è tutta, che ti spetta di diritto. Auguri, siamo la resistenza. Guarda, 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 guardala, aspetta che prendo la cuffia, guardala, guardala, aspetta che prendo la cuffia, aspetta che prendo la cuffia, però non ti sento, Linda, come mai non ti sento? Allora, non ti sento, Linda, quindi devi uscire, poi devi entrare intanto orizzontale, non verticale, ok? Ecco fatto, c'è Linda, Linda Corias, che abbiamo sentito prima il messaggio. La verità, Linda è un avvocato fantastico, cagliaritano. Oh ecco, guarda, 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 c'è anche Gabriella? Sì? Ciao! Gabriella, eh? Ciao! è red, è la diretta di red aspetta che mi faccio vedere così voi mi vedete aspetta che vado la diretta dove? la diretta dove? allora aspetta no vi faccio vedere allora preferenze aspetta così vi faccio vedere le preferenze dove sono eccole qua così mi faccio vedere ecco fatto eccomi qua eccomi ciao come ti senti? beh insomma è stato un anno molto molto particolare un fine anno particolarissimo molto brutto però andiamo bene andiamo bene siamo pronti? siamo pronti per questo traguardo? certo che siamo pronti siamo pronti per un nuovo anno luminoso allora noi abbiamo fatto il nostro covid party siamo riusciti a violare tutte le regole cioè? abbiamo detto beh certo abbiamo superato i limiti abbiamo abbattuto i distanziamenti abbiamo violato le ordinanze abbiamo abbiamo bevuto quindi abbiamo superato anche i limiti delle chilometro cos'altro poi? cos'altro abbiamo violato? tutto 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 guarda aspetta lui è l'unico animaletto che non è stato cucinato creatura va bene ecco abbiamo violato le ordinanze dei comuni restrittivi poi cos'altro? ah qualcuno è pregiudicato qualcuno ha il pregiudizio non fa nulla va tutto bene ah ma vedi chi c'è dalla tua testa? guarda c'è il fuoco aspetta non vede non sta vedendo il caminetto il caminetto anche ci vuole bisogna inquadrarlo per un po' spento va bene bisogna riatizzare questo fuoco No, ma hai visto chi c'è alla tua destra? Alla mia destra? No. Guarda, nell'inquadratura. E io vedo solo me nell'inquadratura. Come vedi solo te, cavolo? Guarda. Eh, lo sai. Chi vedi? Nessuna. Aspetta. Oh, Gesù. Adesso è bello. Ma che stai combinando? Così va bene. Va bene così? E' un sacco di cose difficili. Così va bene. Io non mi scusco tutte queste cose che devo fare. Allora, abbiamo due. Ma Pasquale, stai mangiando ancora? No, sto facendo un po' di... Sto passando la lingua intergentale per parlare meglio. Ah, ok, 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 ok. Salute. Senti, la Linda ha detto che ha infranto tutte le regole che ci potevano infrangere. Sì. Però non ha infranto neanche un bicchiere per ora. Diciamo che noi napoletani siamo abbastanza abituati a questo genere di cose. Noi napoletani abbiamo una percezione più da regno delle due Sicilie. però insomma, tutto quello che sta succedendo in questo periodo è come se già fosse nel nostro sentire quotidiano che esista un modo di stare al mondo dove uno Stato non ti riconosce per quello che sei e fa parte proprio della natura del napoletano trovare scappature. E credo che proprio Napoli è una delle città dove c'è il più alto numero di finti vaccinati. Quindi sono molto orgoglioso di dirla questa cosa. Una diretta di saluto. Cioè, in pratica, ci sono dei finti vaccinati a Napoli? Ma sì. Non dico che la regola, ma è quasi un'obiettità. Ci siano finti vaccinati, finti guariti. C'è tutto un grande... Vedi Alberto, Alberto scrive Popolo della madre terra, Alberto Montanella. Sì, sì. Noi siamo ente estero, quindi nel nostro Stato non esiste pubblico vaccino. Io sono il ministro della Sanità e l'ultima cosa che mi verrebbe da pensare è che quello che chiamano vaccino sia qualcosa che abbia a che fare con la salute umana. Oltretutto, il libero consenso informato, che sarebbe ancora nel codice deontologico, per noi non c'è manco bisogno di dirlo. Perché il lato determinato non ha bisogno di mettere come legge la libertà. Noi disponiamo della libertà, nessuno può gestirla. Nessuna legge può gestire la nostra libertà. Ehi! Di tutto questo livello. Guarda, guarda, guarda chi c'è! E abbiamo anche il Morigia! Oh, come sei elegante, Nino! Oh, dolce vita! È sparita Linda Corrias. È non spesso per il 2022. È una dolce vita! Preferiamo per Linda Corrias, in verità. Aspetta che metto dentro anche Linda. Sei bello anche. Ecco qua, ecco il trio lì, i tre moschettieri, eccoli qua. Oh, ecco! Allora, una alla volta. Tutti mi chiedono come sarà il 2022. Io dico che sarà la conseguenza del 2021. Come sarà il 2022? Sarà la precursione al 2023. Azzurra ora, ragazzi! Eh? Come sarà? Siamo proprio profondi! Eh? Sarà importante! Ecco, sono ritornato in diretta. Che, ecco qua. Ciao Linda! Eccolo! È, è stata scata! Eh, ho visto, ho visto. Ma sai che cosa? Che ci sono tutte le linee intasate. Ci sono le linee intasate. È impossibile fare una diretta stasera. Senti, Nino! Sì? Qual è la cosa più importante per iniziare il 2022 resistendo bene? Vabbè, per noi avvocati è l'attacco. Ho fatto anche un comunicato. Il 2022 è l'insegna dell'attacco, perché adesso le contraddizioni sono evidentissime. Gli avvocati che vogliono agire sono sempre di più. I magistrati cominciano ad ascoltarci. E poi c'è anche questa Francesca Donato, che è un parlamentare europeo, che sta picchiando duro. Speriamo che non sia ludica e che cominciano anche i politici a svegliarsi. Linda? Io lo vedo anche all'insegna del sveglio. Vedo veramente il polso della situazione che cambia. Ormai c'è la verità che cava gli occhi al cieco. Non si riesce più a tenere le pentole coperte, perché comunque il bollore, il sobollore, ormai sta rovesciando i coperti. Quindi credo che dobbiamo cogliere l'occasione, soprattutto in questi primi dieci giorni dell'anno, per fare un gran chiasco. Veramente un gran chiasco. E questo con tutti gli strumenti. Ormai dobbiamo capire che la lotta della valetudo è proprio il nostro gioco. Vale tutto. Le regole cambiano neanche all'ordine del giorno, di minuto in minuto. E quindi chi è più staltro, agile, veloce, pronto, allora sarà colui che deve gestire il gruppo e dare le direttive. Questa è la regola importante. È il valetudo dove l'etica non è quella della legge ufficiale, ma l'etica è la nostra. È quella della giustizia molto più elevata e molto più profonda. Gli avvocati sono uno strumento, ma quelli che hanno veramente chiaro, come il sole, il senso di giustizia molto, molto profondo. E credo che questo messaggio adesso alle persone arrivi. È molto importante, lo percepisco. La spiritualità, la verità e il senso finalmente di rivendicazione della giustizia a quella vera sta arrivando e sta scortificando le persone che grazie a questo senso probabilmente stringeranno i denti e non baderanno più al proprio piccolo giardinetto e la ruota del tricetto del quotidiano. Forza! Siamo sempre più uniti all'insegna dell'amicizia, dell'affetto, della luce. Grazie a Red, grazie a tutti voi e grazie a tutti coloro non solo che credono in noi, ma che stanno imparando a credere in se stessi. e tu Pasquale tu sei sempre quello più calmo. Vabbè ma dopo che ha parlato Linda io lo rimango totalmente confuso come si fa ad aggiungere qualcosa alle parole di Linda? è una belva visto che è un augurio come determinato che è quello che mi permetto di esprimere in un futuro totalmente demidicalizzato riuscire a capire che la salute non avviene per mano dei medici ma la vera salute è qualcosa che ha a che fare con la nostra capacità di stare connessi a questo tempio divino che è il corpo fisico e che va capito meglio nel suo funzionamento va capito meglio oltre quella che è l'indottrinamento e la narrazione costante a cui sono sottoposti i cittadini ma anche e soprattutto per mano di una medicina che ha travisato completamente la qualità e la capacità di trasmettere salute ai cittadini e spero mi auguro tanto che scompaiano tutte queste storie vaccini, tamponi diagnosi fasulle necessità di chiamare il medico per risolvere anche un raffreddore perché magari si crede di poter contagiare chissà quale brutta malattia e diciamo è un augurio forte che nasce da 30 anni di esperienza in campo medico dove ogni qualvolta ho cercato di allontanarmi dal concetto di cura e di malattia così come la propone il sistema corrente ho donato tanta altra possibilità e responsabilità che ha permesso alle persone di stare bene quindi è questo che auguro a tutti per il 2020 riuscire a connettersi al proprio livello alla propria qualità alla propria anima e al proprio sentirsi al futuro lontano da tutte queste informazioni che sono antiche da tutta questa finta della conoscenza che hanno divulgato attraverso un assolutismo che non ha nulla a che fare con la scienza tanta buona scienza e soprattutto tanta buona coscienza a tutti vedi vedi c'è Rita Linda che dice sono molto dispiaciuta vivo in Sardegna e per me non prendere un aereo significa rinunciare a curarmi a vedere i miei cari non posso andare in Liguria no Rita devi andare in Liguria è il momento in cui ci si impone di superare i limiti che ci vengono frapposti sappiate che il ricorso per le isole è già pronto credo che per dopo e domani sarà già iscritto cosa vuol dire il ricorso noi dobbiamo andare avanti cosa vuol dire per evitare questa misura restrittiva si viola la libertà di circolazione e in ogni caso Rita aguzziamo l'ingegno non lasceremo nessuno bloccato ognuno di noi ha una responsabilità non saremo bloccati le isole sono quelle più penalizzate e quindi oltretutto pensiamo anche alle isole minori la Maddalena Carlo Forte le isole nelle isole che già si stanno dando da fare per lottare contro questo abominio ma non durerà non durerà e non dobbiamo farlo durare assolutamente Nino il Comico oggi ho amplificato parecchi il comità il tuo comunicato che è un comunicato di resistenza un comunicato fammi vedercelo trovo al volo è un comunicato bellissimo sì sì di fatti aspetta eccolo qua dove dici praticamente il comunicato del Comicos dice auguro buon capodanno senza restrizioni mentali più il tiranno detta leggi insulsi illegittimi e folli più le anime liberi si dirigono verso la libertà noi non cediamo non ci lasciamo intimorire noi troviamo le soluzioni e ci compattiamo sempre di più il 2022 sarà l'insegna del contrattacco è entrato nel sito del Comicos e usatelo che cos'è il Comicos per chi non lo sapesse è il Comitato per le libertà costituzionali è nato ad aprile del 2020 e è schierato da sempre per tutelare i diritti libertari quelli che ci stanno comprimendo e i nostri mezzi strumenti sono le azioni legali e io invito tutti soprattutto insegnanti e forze dell'ordine e sanitari che sono soggetti all'obbligo ad entrare nel sito entrare nel blog e scaricare tutta la documentazione e seguire gli iter per potersi tutelare in modo che sono milioni gli italiani che non si vogliono vaccinare e che sarebbero costretti dalla legge in questo momento quindi come avvocati non siamo numericamente sufficienti per poterli assistere tutti poi cerchiamo di fornire gli strumenti che in autonomia possono essere usati per resistere ma non è solo resistenza la nostra la nostra deve essere una rivendicazione un'applicazione delle leggi legittime e una disobbedienza delle leggi illegittime questa legiferazione continua spasmodica compulsiva è sempre più alla deriva si sta sempre più allontanato dalla realtà noi dobbiamo tenere la barra dritta e vivere la nostra realtà abbiamo visto dei filmati di ragazzi che sono saliti sugli autobus senza grid pass e hanno messo in grave difficoltà i loro controllori interlocutori prendete i mezzi pubblici usateli e fatevi valere e quando chiedono di controllare il green pass rifiutate rifiutate e chiedete ai vostri interlocutori di esibire in base a quali documenti in base a quali leggi e in base a quale delega loro possono avere questo potere non ce l'hanno quindi nella pratica quotidiana il cittadino vince e dovete farvi valere ecco Linda Linda c'hai un casino lì tu pazzesco ma dove sei Linda Cagliari sono alla Casa al Mare ah ok Santa Margherita di Pula mi raccomando se in diretta ci sono degli insider vi do anche l'indirizzo così almeno facciamo un'identificazione di gruppo no sta zitta non provocare dagli l'indirizzo preciso dagli la posizione che arriva preciso adesso mando la localizzazione ah no allora e poi non c'è problema se devono atterrare gli alieni la parte della copertura è piana e noi siamo estremamente ospitali non facciamo alcun tipo di discriminazione allora dice io sono io sono in Friuli e dovrei tornare a Roma dove risiedo e non posso prendere il treno non posso prendiamo il treno usiamo il free pass che cosa è il free pass è un'autodichiarazione dei propri diritti civili e politici è uno strumento che si può usare è un bel divertimento provatelo alla peggio fermano il treno e vi buttano giù prendete quello dopo esatto esatto ragazzi ricordiamoci le sanzioni sono un'opportunità per sollevare tutte le illegittimità costituzionali e l'abominio legislativo in atto allora quello lì che sta facendo vedere Pasquale Ieso è il PMT Popolo di Madre Terra e lui è il ministro della salute del popolo di Madre Terra giusto? sì ministro della sanità della sanità la salute lasciamo alla speranza è una speranza passata la salute la sanità è molto più vicina alla santità però la santità che si augura che tutti possano condividere ho fatto vedere il mio documento la mia carta elettiva perché comunque la carta elettiva ho accesso ovunque è un potere in più perché in autodeterminazione si è fuori giurisdizione cioè le leggi di diritto commerciale imposte da questo governo criminale non hanno alcun tipo di funzione giuridica e quella è una finzione giuridica per i cittadini schiavi con questa carta elettiva pensate se io andassi in un centro vaccinale e mi presentassi con la mia carta elettiva loro non potrebbero vaccinarmi anzi non vogliono non vorrebbero vaccinarmi perché sono fuori giurisdizione quindi non sono coperti dallo scudo penale quindi loro si rifiuterebbero di vaccinarmi giusto per darvi una una piccola panoramica e spiegazione del sindicato di autodeterminazione la mia scelta è stata fatta proprio alla luce di quanto i nostri avvocati si sono battuti e continuano a farlo trovando sempre continui difficoltà ostracisemi muri di gomma perché la giustizia se era poco giusta prima adesso non esiste più e loro sanno bene quanto devono faticare quanto devono sudare rimettendoci di tasca rimettendoci anche in tranquillità perché sono costantemente insidiati da tutti i potenziali ricatti che questi criminali hanno messo in gioco in autodeterminazione l'aspetto giuridico passa appunto dalla finzione giuridica da cittadino italiano in funzione giuridica perché la tutela che va nella direzione della vita di un autodeterminato è una tutela legata alle leggi di diritto internazionali che salvaguardano il diritto naturale quindi anche questi aspetti sono aspetti interessanti dove non si perde la cittadinanza italiana se ne guadagna una nuova che puoi utilizzare quando ti occorre quindi è importante secondo me approfondire questi aspetti sono aspetti così interessanti che io condivido spesso anche con i miei fratelli con mio fratello con mia sorella avvocato con Nino e con Linda che nonostante abbiano una grandissima cultura giuridica legata a tutto quello che hanno costruito in tanti anni di professione riescono a integrare nella loro grande esperienza proprio perché sono innanzitutto anime che compiono un percorso umano che non è il contrario riescono a incarnare e questa è la grande importanza del diritto naturale Pasquale chiede come posso fare ad avere quel documento allora secondo me è un lavoro che dobbiamo affrontare anche con Nino eccetera per riuscire a capire questa storia dell'autodeterminazione Nino perché c'è anche molta confusione giusto? sì c'è parecchia confusione e ci sono anche diversi contrasti nell'ambito dell'applicazione perché il punto è che l'interlocutore a cui tu mostri il documento di autodeterminazione non conosce la materia e quindi gliela devi spiegare e questo è uno dei piccoli o grossi problemi che gli autodeterminati possono avere però io non mi sento di toccare l'argomento stasera perché è veramente vasto articolato e molto delicato non è lo strumento che risolve il problema ma è diciamo che non conosce non conosce il documento ma purtroppo i documenti giuridici vostri non vengono riconosciuti i nostri forse non vengono riconosciuti da quelli vostri non lo riconosci Pasquale non entro nell'argomento mi conosci e sai quanto io sia prudente sulla questione non mi sembra il caso di mettersi a parlare adesso perché altrimenti dovrei esprimere dei pareri che aprono degli scenari troppo complicati io dico solo che l'autodeterminazione è un percorso che esiste e che ogni persona può fare ma è uno strumento molto potente e quindi può anche essere molto pericoloso per chi non lo sappia usare io dico solo questo ci vuole molta prudenza molto studio e secondo me è una questione proprio di consapevolezza spirituale andiamo un po' di fuori dagli aspetti giuridici classici perché ci eleviamo al di sopra della Costituzione articolo 10 entriamo nel mondo del diritto internazionale e soprattutto nel mondo del diritto commerciale internazionale e bisogna conoscerlo prima di parlare ok ok vabbè vabbè va bene non adesso non adesso con sto casino che c'è la Linda che c'ha un casino allucinante lì a Pula non ti sento Linda certo ho messo muto così non vi disturbo col mio casino vabbè vabbè dai va bene va bene va bene allora io chiudo con un dovinello ragazzi ma quanto siamo belli forza ma si vedono i polizieni si vedono i polizieni un 2022 all'insegna della bellezza della bellezza la natura richiamiamoci a questo la bellezza della natura dell'amore della gioia dei nostri sorrisi noi non alimenteremo nessuna egregora di male non è possibile ok avvisiamo il nostro governo che hanno voglia di provocarci ma tanto noi non cadremo nelle loro trappole guardate un po' nonostante tutto noi lavoreremo in maniera indefessa combatteremo sapremo stare nel fango mantenendo la nostra dignità e la nostra nobiltà d'animo buon 2022 come i tre porcellini come i tre porcellini come i tre porcellini buon dai tre moschettieri ai tre porcellini perché abbiamo mangiato veramente tanto no guarda io stasera non ho mangiato niente ho mangiato uno spaghetto alle sette e mezza e basta quindi eh adesso vabbè vabbè tutti virtuosi noi pecchiamo no 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 qui 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 quello che pecca è sempre è sempre Nino Morigia perché lui mi manda dei piatti allora l'unica cosa certa scrivono è che lo stato di emergenza verrà prorogato oltre al 31 marzo è possibile? ma lo possono prorogare fino al 2050 il discorso è la vita pratica dobbiamo ignorarla sta roba sono loro sono completamente fuori dalla realtà l'emergenza sanitaria che non esiste e noi dobbiamo andare avanti su questa linea e siamo in tanti e siamo collegati tra di noi possiamo vivere benissimo ci manca solo un paio di compagnie marittime e una compagnia aera ma poi il resto è tutto a posto insomma ok ma ci stiamo attrezzando ricordatevi è una promessa per il pubblico non è una minaccia ciao ragazzi grazie di questa diretta poi ne faremo dobbiamo approfondire meglio con collegamenti buoni anche c'è tanti discorsi diciamo che saranno giornate molto impegnative ok grazie ciao ragazzi rimettiti rimettiti bene sì mi sto rimettendo Nino grazie ciao ciao Pasquale ciao a tutti ciao ciao Pasquale ciao Linda ciao ciao ragazzi ciao auguroni ancora a tutti ciao allora grazie grazie che bello avere avere gli amici allora che succede qui eccomi qua eccomi qua bello grande grande Nino grande Linda Corrias grande Pasquale Jesus allora oh vedo che c'è Nicoletta Tedesco ragazzi l'ho detto lo dicevo prima il sta a noi decidere tutto sta a noi fare tutto e quindi sta a noi l'anno non è che l'anno arriva ed è più bello o più brutto io mi dichiaro marziano obbedirò le leggi galattiche disobbedire alla mezzanotte ho pregato che possa tornare in tutti noi la coscienza e l'amore che bella Linda è Nicoletta sì il popolo è sovrano perché non li mandate a casa sti politicanti perché il popolo non è sovrano sono balle che dicono sovrani sovrano il denaro e la gestione del potere allora l'autodeterminazione parleremo di autodeterminazione in futuro quindi buonasera da Palma di Mallorca buon anno moschettieri allora li avete visti i moschettieri mi chiedete sempre dei moschettieri adesso li avete visti i moschettieri nei moschettieri ma anche il dottor Milani che in questo momento non c'è c'è è in una festa buon anno allora che fra l'altro l'ho visto in questi giorni il dottor Fabio Milani bellissima questa diretta sì ero indeciso se farlo o no poi alla fine ho deciso i triad ciao triad l'hanno fatta fuori dal vaso non si può lasciar correre uniti perdono ogni credibilità lo so probabilmente non vi aspettavate una diretta così neanch'io mi aspettavo una diretta così quindi è stato bravissimi l'anno promette il peggio di quello passato certo promette ma noi lo faremo cambiare è semplice no? bello felice di vederti felice buon anno qua finisce la quarantena tiraci su di morale e beh su di morale più di dire che siamo tutte nelle nostre mani raccontaci come stai che cosa hai avuto ho avuto o ancora non è che io sia in forma di fatti come senti parlo calmo oggi per la prima volta ho lavorato tutto oggi al computer montando cose anzi domani ho finito tutte le descrizioni dei video perché domani verranno pubblicati 17 video degli interventi del coscienza quella che abbiamo fatto il 27 novembre con Leonardo Pagni e Michele Micheletti abbiamo allora hanno organizzato questo mi hanno chiesto di fare coordinare le interviste ed è stato qualcosa che ha avuto un successo incredibile ho incontro continuamente persone che mi parlano di questo pensate che nonostante fosse a registrazione cioè uno si doveva registrare per vedere la diretta alla fine il video che è ancora privato che è ancora nascosto ha già avuto 60.000 più di 60.000 visualizzazioni quindi vuol dire che c'è un bunker tant'è vero che hanno deciso Michele e Leonardo di rendere pubblici tutti i singoli interventi allora ciao Roberta ma la Roberta giallo ma la Roberta giallo ho pubblicato Roberto ho pubblicato su YouTube la tua caro amico ti scrivo e anzi guarda fammi dare un'occhiata se riesco guarda se riesco la mostro adesso dov'è la Robertina giallo allora aspetta fine aspetta no aspetta guarda no visto che non c'è la tua sigla perché stasera non è un ecco fatto AirDrop MacBook Pro ok ecco fatto ecco fatto guarda vediamo se mi è arrivata eccola qua guardate guardate quanto è bella la Roberta giallo caro amico ti scrivo così distratto e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò da quando sei partito c'è una grossa novità l'anno vecchio è finito ma qualcosa ancora qui non va si esce poco la sera compreso quando c'è e c'è chi ha messo dei sacchi di sacchi vicino alla finestra e si sta senza parlare per intere settimane e a quelli che hanno niente da dire per tempo né ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione e tutti quanti stiamo già aspettando sarà tre volte natale e festa tutto il giorno e il Cristo scenderà dalla cruz e anche gli uccelli faranno ritrovare e si farà l'amore ognuno come gli va anche i preti potranno sposarsi ma soltanto una certa cosa buona fine buon nuovo inizio per l'anno che vorrà io amo questa ragazza Roberta Cialo Massimo Minutella ciao Red spero di poterti abbracciare presto abbiamo condiviso insieme diverse belle cose Dio ti beci bene amico mio eh ragazzi Massimo bello il video di Roberta Cialo sì ce la faremo certo ce la faremo vivo all'estero ma se volessi tornare in Italia dovrò fare la terza dose se in aeroporto mi chiederanno il Green Pass aggiornato come farò non potrò più tornare non lo so non lo so dobbiamo resistere dobbiamo resistere e basta guarda guarda splendita interpretazione di Dalla allora buon anno qui a Roma è avvolta dalla nebbia vediamo un po' allora da piangere che brava Roberta Cialo è incredibile come è attuale questa vecchia canzone di Dalla le canzoni non sono mai vecchie le canzoni sono eterne vogliamo parlare di quelli di Edoardo Bennato quindi Roberta è bravissima come brava questa ragazza lo so è un amore se mi cavi di tornare a mia Bologna ora che vivo in Puglia mi piacerebbe davvero moltissimo venirti a trovare eh sì vabbè purtroppo c'è un discorso da fare che mai come in questo periodo io sono sommerso a parte il fatto che in questo periodo non ho risposta a nessuno e non ho non ho letto mail non ho fatto niente però mai come in questo periodo perché una volta io avevo soltanto le mail che riguardavano la musica dopodiché qui ci sono aggiunte le mail che riguardano i dottori e quindi tanti mi chiedono l'indirizzo del dottor Petrella o del dottor Fabio Milani poi ci sono le mail che riguardano gli avvocati sono in questa situazione insomma è un ed è un ed è un continuo in più ci sono le mail di chi fa canzoni più ci sono le mail di quelli che mi chiedono come fare con queste nuove disposizioni di PCM e quindi non 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 ce la faccio più bellissima Roberta vedi Roberta è un che gioia rivederti così di voci dallo spazio raro e quindi siamo in tanti forza buon anno la Roberta emoziona qualsiasi cosa faccia deve aspettare l'estate se vuole rientrare in Italia esatto dalle immortale felice disobbedienza ok dobbiamo resistere esatto cos'hai mal di gola io no no ho ancora i postumi diciamo di di un virus non col numero che ho non è un mistero non sono stato non mi avete visto per dieci giorni quindi sono arrivato a fare il 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 21 dicembre l'ultimo we have a dream e dopodiché proprio pum e e niente allora leggevo articoli degli anni 80 anche allora le terapie intensive erano pieni di fluine certo lo so lo so lo so come abbiamo fatto a farci trattare così tutti non lo so chieditelo a te io non mi sono fatto trattare in nessuna maniera noi abbiamo siamo andati avanti chi si è fatto trattare è purtroppo noi 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 resistiamo augurissimi dalle Canarie dove non esiste il Green Pass non posso più venire in Italia mamma mia ragazzi è bello vedere che qui siamo in tanti lontani dallo dallo stream stai meglio red si sto meglio ripeto oggi oggi ho montato We have a dream allora un altro vedo adesso do controllo ecco vedi questo qui allora questo è un mio amico che aveva bisogno del dottor Milani urgentemente perché perché ci sono tante persone che non vogliono andare assolutamente in ospedale e fanno bene allora sei una forza pulita intelligente e onesta sì è vero diciamo auguri da Liverpool oh Liverpool Marina madre perla finalmente dal vivo ben trovato ciao Marina Marina è artista di strada di Milano un abbraccio profondo cuore questo anno possa dal nulla risorgeremo allora guarda questo Loris che non c'entra niente la domanda cosa ne pinta la cannabis light tu mi spieghi che cosa c'entra questo discorso il capodanno del 2022 le persone sono incredibili va bene conosci il miele di sulla certo conosco tutti i mieli ti mandiamo amore allora buon anno eccetera anche Genova è nella nebbia questa mattina scendendo a Genova la vedo completamente inglobata in una nebbia che ritengo sia artificiale fatta proprio per impedirci il contatto con il sole e beh non è un mistero che il controllo del tempo sia importante chi controlla il tempo non il tempo nel senso di giornate mesi anni ma tempo nel senso di weather il controllo del tempo controlli tantissimi sei un combattente saranno duro ma venderemo cara la pelle non dobbiamo vendere la pelle non ce la facciamo portare via auguri auguri di resistere sono felice di vederti ascoltare torno a Roberta marciamo su Roma in 2-3 milioni finisce le marce su Roma lascia le stare we shall never surrender ho i miei genitori in Sardegna sono figlia unica spero di poter andare e trovare presto ma vi rendete conto di che cosa stanno creando cioè una persona non può andare a trovare i genitori in Sardegna mamma mia ragazzi cioè io vorrei che i Sardi e i Siciliani sono bloccati lo so anche io devo fare una cosa a Messina ed è saltata vabbè che non stavo bene quindi chi oggi non è contento non ha capito che è peggio chi pensa che il pericolo siano i vaccinali non ha capito niente vabbè per il decimo anniversario il viaggio astrale di Lucio ci vuole uno speciale dedicato davvero speciale vai a nanna no fra un po' ci vado a nanna abito in Germania da 30 anni vi dico che anche qui ci tartassano ma sto vedendo che i tedeschi adesso si stanno stufando e cominciano a ribellarsi seriamente abbiamo barattato la libertà si sono inventati una peste su ciò che prima si chiamava influenza questo è uno del bellissimo questo post questa storia dell'autoderminazione l'affronteremo con molta dovizia di particolari allora come ti sei curato Red con omeopatia omeopatia vitamina C tutti i prodotti naturali B e C eccetera auguri dal Brasile noi qui abbiamo già festeggiato Capodanno voi fra un po in Brasile cioè fra un po di ore allora mi fa piacere che questa diretta appena entrati nell'anno nuovo ti trovo un po provato Vittorio sono provato guarda oggi ho faticato a fare un video di 5 minuti e adesso sono in diretta da un po e quindi sei in questi giorni ho soprattutto dormito anzi dico dormito e vedi allora un abbraccio vittorioso si può preparare a realizzare buon anno a Roma nebbia da paura da nulla eh lo so puzza pure quella nebbia c'è da un mese da me in Lombardia siamo forti come la roccia la nostra forza è il Signore nebbia a Roma confermo mamma mia ragazzi Elisabetta Franchi incredibile la nebbia di Roma in questo momento il mio disegno è andarmene dall'Italia ho trascorso questa sera preparare lo zaino sai Fabio è vero che se vai via tornare a un casino comunque se ne stanno andando in parecchie se ne stanno andando in parecchie anche qualche artista anche a Tarragona nebbia mamma mia ragazzi sembrava finta scrive Elisabetta la nebbia di Roma qui a Napoli sembra di stare nel Vietnam vabbè Napoli 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 a parte ti vedo in forma ma insomma Napoli stessa situazione una nebbia così non la vedevo da 30 anni persino a Roma c'è la nebbia e il caso vuole che oggi pomeriggio il cielo era pieno di scia chimica il giorno del giudizio è vicino tv e giornali quindi sto saltando un po' intanto ci siamo votati alle spalle 2021 terribile sono moderatamente ottimista ok va bene ho i miei figli a Londra sono preoccupato con sta variante lascia stare la variante la variante è una cosa positivissima di fatti prima sulla Bologna e Firenze c'era sempre traffico adesso non ho creato la variante e si va velocissimi non stare a credere a quello che ti dicono dovete spegnere la televisione dovete spegnere la televisione non leggere i giornali non ascoltare la radio dovete spegnere ogni mezzo di comunicazione mantenere comunicazione tra di voi dirette whatsapp telegram signal questo dovete fare Corrado Maranga è un grandissimo allora sto seguendo te mia mamma è seduta vicino a me sta ascoltando in diretta la messa di Don Alessandro siete due persone che stimiamo molto grazie Don Alessandro è Don Alessandro Minutella che è il gemello di Massimo Minutella del mio amico è un grande tanto è vero che è stato scomunicato due volte ormai ormai credo che per capire se un medico è bravo se è stato sospeso è bravo se è stato radiato ancora di più se non è stato sospeso così i sacerdoti Don Minutella è stato è stato scomunicato ricordo che i preti pedofili non sono scomunicati credo che lo vogliono anche ridurre a stato laicale quindi togliergli la toga la veste da prete i preti pedofili no quelli no quelli mantengono lo stato di prete di sacerdoti però siamo siamo una volta una mattina stavo per uscire e c'era un film Sodome Gomorra in televisione e mi sono incantato a guardarlo perché perché Sodome Gomorra descrive una realtà che è quella di oggi l'abbruttimento di ogni valore la fine di ogni valore la sfendita totale Sodome Gomorra queste due città dove 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 vigeva soltanto la corruzione il sesso la sporcizia la violenza il gioco di potere il denaro eccetera ed è noi siamo oggi in Sodome Gomorra quindi aspettiamo gli angeli anche in Ungheria hai seguito il discorso di Mozzarella ma secondo te io perdo tempo ad ascoltare il discorso di quel tipo lì guarda mi ero completamente dimenticato che ci fosse anche pensa te ho montato We Have Dream mentre lui faceva il suo discorso ho perso il mio padre a ottobre mia madre ancora non prende la pensione sua e vogliono sospendere mia sorella come vivo mamma mia per ragazzo all'estero potete disobbedire e camminare un viaggio un cammino del tempo per te e la tua vita riprendendo e dire la tua cosa allora andiamo avanti devo devo c'è nebbia anche in Sardegna mamma mia ragazzi ho la mia mamma di 92 anni in Sicilia Messina hai litigato con Claudio Baglioni io no assolutamente no allora Watchmore Watchmore TV Bonavoc cioè vabbè bellissima diretta grazie allora mamma mia ho visto che sono in 92 allora vado avanti veloce arrivo alla fine dei messaggi se hai scritto qualcosa di interessante riscrivilo perché ecco perché non pensi che quest'anno saranno possibili arresti ad alto livello penso che quest'anno useranno l'esercito e sarà anche possibile arresti certo che sono possibili arresti quindi farai uno speciale di nuovo su Muccioli non lo so io avrei voglia di fare un documentario vero su San Patrignano ce lo stiamo dicendo io andrei a Muccioli vediamo se se lo faremo qui in Val di Susa abbiamo un clima primaverile allora il 10 gennaio rientrerò nella scuola in cui insegno perché ho deciso di non vaccinarmi quindi sospeso io non mi farò mai iniettare nulla John Cash Man in Black mi piacerebbe indossare un arcobaleno ogni giorno e dire al mondo che va tutto bene ma cercherò di portarvi un po' di oscurità sulla mia schiena fino a quando le cose saranno più luminose io sono l'uomo in nero siamo in quattro due bimbi e moglie monoreddito soldi per cinque mesi mamma mia ragazzi mi sa che devi riposare sì devo riposare la gente come noi non molla mai allora in Germania si stanno organizzando per otto vaccini lo so io dico che vogliono fare otto vaccini lo sto dicendo dall'inizio l'obiettivo è otto vaccini allora allora sono quelle di Vapor City ma quando posso venire chi se ne ha fatto dell'anno nuovo cose pure Vapor City Simone c'ho un'amnesia sono stanchissimo allora qui in Brasile stanno arrivando molti italiani e spagnoli a vivere qui la più grande fortuna è avere i propri cari vicini e bracciarceli si consiglia di lasciare l'Italia per andare dove e vabbè ragazzi e adesso vediamo 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 purtroppo per denunciargli illeciti sono guadagnati fotte di procedimenti disciplinari e querele ma non ho mai smesso di denunciare perché otto perché 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 è previsto otto perché con otto le sostanze che entrano dentro si perfezionano stanno comandendo crimine contro l'umanità vaccinando i bambini e donne in maternità e tanti bambini stanno cominciando a stare male e tanti bimbi non nati non ce la faranno lo so stanno sacrificando i nostri figli nell'altare del maligno oggi al supermercato uno che parlava d'alta voce al telefono che si era ammalato di covid tutta la famiglia vaccinati e anche lui parlava al telefono idem vabbè allora in che senso otto vaccini fanno otto vaccini ragazzi quando quando vi dicevano che vi dovete vaccinare dicevano uno no? adesso cominciano a parlare di tre già quattro intanto però è da allora che nelle schede è previsto fino al numero otto quindi abito nelle Marche stamattina varie scie chimiche stasera anche qui nebbia quindi ma cosa mi mancava mi mancava la Elisabetta che mi ha mandato mi ha mandato questa roba qui happy new year e quando l'ho aperta esplode tutto che bella cosa ok allora sono con mia figlia di dieci anni a combattere questa assurda dittatura i portatori di hand come mia figlia autistico perderanno il lavoro come molti giovani torna presto Messina va bene da smartphone sento bene Red quanta gente sta soffrendo auguroni ok allora ragazzi parla chiaro mi sono più chiaro di così non so come devo parlare la nebbia puzza di metano comunque non è un odore buono allora diciamo le le prospettive di questo inizio anno consigliano consigliano di fare scorta di generi alimentari di avere una stufa perché sono possibili black out e e di stare calmi sereni determinati sereni questo è tutto quanto ok tutto qui rimani con noi no adesso adesso basta pensavo fossimo un po' che inizio di ci siamo e saremo sempre di più certo che saremo di più allora vedo che siamo in 2000 sto vedendo quando arriviamo a 2022 allora quando hai fatto l'incidente ho pensato a un tentato omicidio perdonami hai pensato bene non è il caso ma hai pensato bene anche in toscana nebbia mai vista nemmeno i vecchi hanno ricordato una nebbia così persistente e puzzolente mamma mia basta fare come in Romania continuate a scrivermi della Romania cosa sta accadendo in Romania alcuni mi stanno scrivendo dalla Romania cosa succede in Romania go vegan buon 2022 abbiamo sorpassato i 2022 siamo arrivati a 2041 adesso a nord di Torino due giorni di sci e chimiche di solito sparavano se il giorno dopo pieve invece sole a palla 16 gradi cosa avevano sparato non lo so credi nella cabala delle feste del nuovo anno ad esempio questo ci pensa Ferrarini io non ci capisco niente anche il 2022 sarai vittima di crozzo per le stupidaggini che dici mi dispiace pensa che sfiga per te Maurizio che tu dici un sacco di stupidaggini e non ti caga nessuno almeno a me mi imitano e vado in televisione pensa che sfiga quanto ti rode ci voleva lo sfigato se non c'è lo sfigato se non ci sono i luoghi comuni se lo sfigato o il coso abbiamo lo sfigato di Capodanno che era rosica felice anno a tutti voi ci stanno ci stanno avvelenando l'aumento della bollette elettricità dovuta alla chiusura delle centrali nucleari francesi da cui prendevamo parte adesso anche la Germania sta disponendo la chiusura e poi la Russia chiude eh lo so appunto fin da piccolo che conosco il nome di Red ma ha incominciato a interessarmi la sua storia lavorativa solo da quest'anno che ho 45 anni mamma mia ah hanno abolito il Green Pass in Romania di quello che abbiamo chiesto non hanno dato nulla senza chiedere invece è andato a tutti i vaccini esatto ciao da Mosca Mosca com'è la situazione in Russia la polizia protesta col popolo in Romania dove? mettete i soggetti allora le scie chimiche le sta facendo anche mio zio ma non ma c'è un piacere di vederti c'è la nebbia a Roma lo so lo so me l'avete scritto poi la Russia chiude i rubinetti e il gas e sarà il blackout brutto prepariamoci qual è lo scopo il motivo ordini dall'alto non lo so però è possibile che chiuda chiude il gas quindi in Romania si sono ribellati contro il governo in Romania grossa protesta la tua voce diffonde calma oggi stanchezza hanno tolto il Green Pass ah hanno buttato gas lettale scorreggiano forte ecco un altro sfigato buonasera anche a Torino ieri mattino è finita di sci e chimiche faranno il blackout solo se la gente si ribella altrimenti non lo daranno in Romania centomila persone davanti al Parlamento e hanno detto no al Green Cut hanno bloccato hanno bloccato il Green Pass tutto vero chi si ribella viene tagliato fuori quindi sta nel giusto prima di chiudere lasciaci un bel pensiero avete avuto un buon mondo morendo allora per due volte hanno occupato il Parlamento e hanno ritirato il Green Pass sono entrati al governo il giorno dopo abolito il Green Pass sul lavoro il popolo è riuscito a fermare il Green Pass perché il 70% non si è vaccinato ha bloccato il Parlamento il popolo è insorto contro il governo mamma mia i legionari di Traiano si sono liberati in Romania dal gioco del denaro hanno bloccato il Green Pass sul lavoro il popolo aveva assediato il Parlamento e per adesso il Green Pass non c'è nemmeno restrizioni come qui anche a Rieti c'è la nebbia buono 2022 dal Messico dove Messico nebbia mai vista e puzzorente è certo come possiamo lottare mantenendo timone a dritta nella direzione giusta così allora devono arrivare gli alieni no anche a Napoli per una giornata calda e improvvisamente c'è nebbia in Romania ha tolto il Green Pass per le forti ordini e proteste fantastico Romania ribellione ritiro di Green Pass hanno fatto fuori c'è il USESCO a Romania la folla ha assaltato il Parlamento polizia dalla loro parte non ha molato fino a quando è stato brutto il Green Pass i 2022 sopravvissuti prendi tanta vitamina D la sto prendendo la sto prendendo i rumeni sono liberali allora maglie di lana passate il riscaldamento in Romania non c'è mai stato il Green Pass lo stanno mettendo ma i fascisti sono contrari certo che Alessandra certo che seguire un gruppo non ti interessa certo che per seguire un gruppo che non ti interessa per criticare questo deve essere psicotico bloccato ma vedi Alessandra non puoi non puoi piacere a tutti non possono essere tutti intelligenti non possono essere tutti svegli e non rincoglioniti è un tot di gente decisamente persa mentre tanti altri sono risvegliati e quando una persona è persa inevitabilmente attacca gli altri perché perché nel suo inconscio sa che è nel torto ciao da Livingstone UK scie tutti i giorni pioggia e nebbia mamma mia metti le puntate complete di bandiera gialla su youtube Giovanni Minarelli le puntate complete di bandiera gialla sono su Redroni TV perché le devi avere su youtube ti abboni a Redroni TV ti vedi le puntate complete di bandiera gialla tutti i Bibbopalula tutti i primi Roxy Bar gli Elp gli speciali tutto c'è cosa vuoi di più tutti i balone rosso tutti quindi se è il nostro Gandhi italiano eh vabbè eravamo un popolo di libertà siamo rincoglioni di tutti Marine il Kosovo ci sono già blackout elettrici ma hanno fatto informazione adeguata prima i romeni sono un popolo con le palle ok ragazzi bene allora siamo arrivati alla fine ci sono tantissimi vieni qui Olli vieni vieni piccola vieni che salutiamo insieme io e te vieni qua Olli ecco ti qua che sei stata qui ad ascoltare la mia voce rassicurante allora ciao sono Francesca puoi mandarmi un messaggio di speranza ho perso mia figlia e mio marito i miei due pilastri ho il cuore a pezzi Francesca cosa posso dire a una persona che ha perso figlia e marito tanto che non li hai persi non si perde mai niente sono solo andati nell'altra dimensione prima di te li rincontrerai stai tranquilla parla con loro loro ti ascoltano tu non li senti ma loro ti ascoltano avrai anche dei segnali dei segnali che ti arriveranno dei segnali guarda le coincidenze le cose che accadono ok sono segnali che ti manderanno abbracciali prima di addormentarti ci parli ok va bene buonanotte ragazzi buon 2022 buon inizio buona alba di questo nuovo anno Oli non ci sono più i botti eh andiamo a nanna adesso eh ok ok ciao a tutti